Sulla consulta il CSM ha vinto il metodo del Movimento 5 Stelle che era quello della trasparenza. Abbiamo chiesto una pubblicità dei candidati che fossero dei candidati non legati ai partiti e così è stato. La rete ha ratificato e quindi noi con notevole soddisfazione possiamo dire che per una volta questo metodo è riuscito anche a far scongelare i partiti. Speriamo che altrettanto avvenga sulla legge elettorale visto che la nostra legge c'è ed è depositata già da mesi. Quindi vedremo cosa farà il governo in merito.